Il 25 settembre siamo chiamati alle urne, siamo chiamati a votare e queste elezioni del 25 settembre sono elezioni particolari per diversi motivi, innanzitutto perché votiamo in un periodo dell'anno diverso dal solito, siamo chiamati a votare a ritorno dalle vacanze, quando ricomincia la scuola, ricomincia la nostra routine e poi perché quest'anno eleggiamo un Parlamento che è ridotto nei numeri, infatti andiamo ad eleggere una Camera di Deputati che avrà soltanto 400 membri e un Senato di soli 200 senatori. Eleggeremo il nostro Parlamento in base al cosiddetto Rosatellum, in base alla legge elettorale Rosato. Questa legge elettorale prevede un sistema elettorale misto, quindi un sistema elettorale in base al quale un terzo sia della Camera sia del Senato è eletto su base maggioritaria e mentre i due terzi sia della Camera sia del Senato sono eletti su base proporzionale. Che cosa significa? Significa che i diversi partiti nel corso dell'estate hanno costituito una serie di liste di candidate e candidati e hanno stabilito e implementato i propri programmi con i quali si presentano alle elettrici e agli elettori. Taluni di questi partiti hanno poi dato corpo a delle coalizioni, altri partiti invece hanno stabilito di correre da soli senza dar vita a coalizioni. Questi partiti tutti corrono ciascuno con il proprio programma per i seggi attribuiti su base proporzionale, quindi li troveremo sulla scheda, ciascuno con il proprio simbolo e l'elettore è chiamato ad esprimere una preferenza barrando il simbolo. Quindi l'elettore non deve scrivere il nome della candidata o del candidato che vorrebbe votare, è sufficiente votare il partito perché le liste sono bloccate, il che significa che c'è già la lista e le persone sono già messe in ordine, a seconda del numero dei seggi spettanti a ciascun partito scatta il numero di persone sulla base dell'ordine in cui stanno in lista. Dopodiché l'altro terzo, sia della Camera sia del Senato, è assegnato su base maggioritaria. Quindi, a seconda delle scelte che hanno operato i partiti, taluni si sono uniti in coalizione, quindi hanno scelto fra di loro un candidato comune per ogni singolo collegio, quindi c'è il candidato di coalizione. Altri partiti, non facendo parte della coalizione, anche per l'uninominale presentano un candidato proprio. Come si fa a votare i candidati dell'uninominale? Votando i simboli del plurinominale, quindi i simboli dei partiti, in automatico si votano anche i candidati dell'uninominale, con una differenza. Per chi non fa parte delle coalizioni, i candidati del plurinominale e dell'uninominale appartengono allo stesso partito. Per chi fa parte di coalizioni, invece, nel plurinominale ci sarà una serie di partiti, che però hanno scelto dei candidati per i singoli collegi. Quindi, in un collegio ci sarà il candidato di un partito, in un altro collegio ci sarà il candidato di un altro partito della medesima coalizione. Votando nella parte della scheda dove ci sono i simboli del plurinominale, il voto va in automatico anche all'uninominale. In realtà, anche votando soltanto sul candidato dell'uninominale, il voto rimarrebbe all'interno della coalizione, ma viene poi ripartito proporzionalmente. Che cosa non può fare l'elettore? L'elettore o l'elettrice non può fare il voto disgiunto. Cioè, se vuole votare un partito di una coalizione o un partito singolo, non può votare il candidato dell'uninominale di un'altra coalizione o di un altro partito. Ciao!